Ormai siamo tutti dipendenti da questo, il telefono, e il problema è che ne siamo dipendenti senza saperlo. Volevo fare qualcosa per rimediare a questa mia dipendenza, o meglio, ho fatto qualcosa, altrimenti non starei qui a raccontarvelo e a fine video vi mostrerò i risultati di questo mio esperimento. Ci tengo a precisarlo? Niente cose estreme, tipo cancello i social per 7 giorni, oppure chiudo il telefono a chiave nel cassetto perché tanto alla fine di questi esperimenti si torna a riutilizzare i social e il telefono in modo compulsivo ancora più di prima, come se dovessimo metterci in paro per il tempo che non abbiamo utilizzato. Quindi mi sono ascoltato e sono andato avanti step per step e la prima cosa che ho fatto è stata attivare il non disturbare, sempre, a prescindere dai contesti. Ovviamente ho limitato qualche persona da questa full immersion perché altrimenti non avrei più sentito nemmeno la mia famiglia, quindi sì, qualcuno poteva continuare a scrivermi, ma nel 100% del mio tempo c'era attivo il non disturbare e pensavo che questo mi avrebbe aiutato perché non erano più le notifiche a venire da me, ma ero io che dovevo andarmene a cercare. E quindi sì, allontanandomi dalle notifiche pensavo potesse essere la soluzione, ma no, mi sbagliavo. Allora sono passato al secondo step, ovvero quello di spostare i social nella seconda pagina del mio telefono e metterli in una cartella. All'inizio ha funzionato, non aprivo troppo i social, ma poi il mio cervello si è abituato e niente, anche questo esperimento è stato fallimentare, è incredibile quanta dopamina rilascia questo affare. Parliamo della dopamina, la gente la chiama la sostanza chimica del bisogno o della gratificazione istantanea. E la terrificante realtà è che la totalità dei dispositivi e piattaforme che utilizziamo giornalmente sfrutta questo sistema di bisogno e ricompensa. Infatti team interi di esperti lavorano giorno e notte per progettare prodotti e piattaforme online che ci facciano rilasciare quanta più dopamina possibile per farci tornare ancora e ancora. Che è poi il motivo per cui i social media aggiornano costantemente gli algoritmi per aumentare il tasso di ritorno o di permanenza sulla piattaforma. E vale anche per i videogiochi che hanno premi, livelli, classifiche, tutto solo per farci tornare. Ci inebriamo così con continue dosi di dopamina mentre saltiamo da un post all'altro, da un livello all'altro ed è il motivo per cui ci passiamo così tanto tempo. Ma oggi dopo diversi test se sono qui è perché ho trovato il modo, il mio modo che mi ha permesso di staccarmi un po' dal telefono. In primis voglio farvi vedere come ho organizzato il mio telefono. Partiamo dalla cover, questa è una cover di Spigen con questo effetto trasparenza veramente molto molto bello disponibile anche per telefoni Samsung e Pixel. Se volete provarla anche voi vi lascio il link in descrizione. La mia schermata di blocco, eccola qua, è molto molto semplice. Come sfondo c'è una Tesla, lo sfondo lo trovate nel mio canale Telegram, anche questo link in descrizione. C'è l'orario in alto, qualche widget. Abbiamo il widget del meteo, la carica dell'Apple Watch, l'attività fisica e il giorno qua su in alto. E una bella frase motivazionale qua su che potete appunto inserirla sfruttando un'applicazione che trovate anche questa linkata in descrizione, ma tra poco ve la faccio vedere. Sblocchiamo il telefono. Ecco qua, home screen molto molto particolare. C'è poco o nulla, solo le app che utilizzo di più per lavoro. La mia dock, quindi telefono, il browser, Whatsapp e i sound che uso per la musica. Il widget di Google Calendar che mi dice che giorno è oggi e quali sono i prossimi impegni che ho. E poi una pila di widget dove troviamo ancora una volta l'attività sportiva, quante ore ho dormito e un'altra schermata qua sotto dove si vede il tempo di utilizzo che non voglio farvelo vedere adesso. Scorrendo sulla sinistra abbiamo un'altra serie di widget ma non uso praticamente veramente mai. e poi sulla destra non ho nient'altro, ho direttamente la libreria delle app perché almeno non ho distrazioni. Queste app ragazzi sicuramente le conosce tutte, è inutile che ve le faccio vedere perché di diverso da solo c'è soltanto Google Task che è quello che utilizzo per segnarmi gli impegni e i task giornalieri da fare, per il resto conoscete tutto. Come vedete qui sulla home non ci sono né i social e nemmeno YouTube Studio perché mi ero fissato. Era un periodo che mi sono fissato con YouTube Studio, andavo sempre a controllare le analytics del canale e stavo impazzendo quindi ho deciso di togliere tutto, soltanto quello che utilizzo veramente. E come vedete nella home non ho uno sfondo, quindi schermata nera come ai bei tempi di iOS perché non so se lo sapete ma iOS all'inizio non ti faceva impostare lo sfondo sulla home. Ora, che altro posso farvi vedere? Allora, una cosa interessante secondo me è la mia full immersion del lavoro. Infatti se vado ad abilitarla vedrete che cambierà la schermata home, non c'è più niente ragazzi. Quando sono al lavoro non voglio distrazioni, quando sono in ufficio non voglio distrazioni e se sblocco il telefono e vedo una tristezza del genere non mi viene voglia di usarlo. Anche la schermata di blocco cambia, sparisce la Tesla, c'è la percentuale di ricarica dell'Apple Watch, c'è soltanto il meteo, niente di più. Quindi veramente super super scarno quando sono in ufficio e questa cosa mi ha aiutato veramente veramente tanto. Adesso andiamo a togliere la full immersion, torniamo alla home normale e andiamo a scorrere insieme l'elenco delle mie app. Non utilizzo chissà quali applicazioni particolari, Bitmoji è carina, mi permette di creare il mio sticker con la mia persona e utilizzarlo anche nelle app di terze parti. Infatti posso prendere lo sticker, copiarlo, andare magari su Telegram o su una qualunque app e poi andare ad incollarlo e me lo invia con uno sticker. È un'app carina, niente di incredibile. Poi Backdrops è l'app che utilizzo per gli sfondi, maggiormente utilizzo questa. Ci sono un sacco di sfondi molto molto fighi. Anche Marcus Brownlee usa questa e un motivo ci sarà. Adesso la mia connessione non aiuta, non capisco il perché, ma comunque gli sfondi sono molto molto carini. Ecco, inizio a caricarli adesso molto particolari. Questo colorato, questo collocchio, questo blu, insomma veramente un'app molto molto figa. Poi, andiamo avanti con, vabbè, Canva la conoscete, Curve, Discord, iSound, Freeform, Funko. Funko perché mi piace archiviare tutto il mio catalogo di Funko Pop. Ne ho un bel po' e ho speso anche un po' troppi soldi per quanto mi riguarda. Abbiamo la My Collection, 518 dollari di Funko Pop. Porca miseria, ho speso veramente un botto di soldi per questi cavolo di Funko, ma sono carini, non posso farci niente. Get Your Guide, ve l'ho mostrata in un video top up. Vi permette di prenotare attività o comunque guide e quant'altro in ogni città del mondo. Molto carina. Google One perché utilizzo appunto Google come servizio di archiviazione cloud. GoPro Quick per scaricare le clip dalla GoPro. L'Undrop vi permette di inviare file, ricevere file come se fosse Airdrop tra iPhone, Android, Windows, Mac, tutto. È fighissima, ve la straconsiglio come app. Poi abbiamo, vabbè, Elephant è l'app del mio robot aspirapolvere. Motivation, ancora qua, questa è l'app che vi dicevo prima. Annulla, sono sicuro. Ok, ciao. Ok, questa è l'app che vi dicevo prima. Grazie a questa app potrete andare ad inserire nella schermata di blocco dei vostri iPhone una frase motivazionale. È molto molto carina. Comunque ce ne sono diverse. Se vi piace scrivere magari anche frasi sui social, ecco, potete sicuramente prendere ispirazione da questa app. È molto carina. Poi, vediamo, eravamo arrivati alla M, Motivation. Come detto, non ho tantissime app, ragazzi, però comunque ne ho poche, proprio perché voglio disintossicarmi dal telefono. NordVPN, perché è la VPN che utilizzo. Notion, perché ci faccio di tutto, ci segno i video, le cose da fare in ufficio. Ormai anche in ufficio stiamo utilizzando tutti i Notion per gestire tutte le task da fare. È pazzesca, incredibile Notion come app. Scaricatele, usatela tutti. Poi abbiamo Picnic, anche questa è un'app molto molto carina. Vediamo se posso farvelo vedere al volo. Vi permette di modificare il cielo nelle foto. Vediamo se trovo una foto con un cielo brutto. Ok, questo cielo fa schifo, ma con un solo clic posso andare a modificare il cielo della foto. Ed è una figata assurda. Posso addirittura trasformare la foto di giorno al tramonto o di notte, volendo. Molto molto figa. Questo cielo super particolare. Questo tramonto. Vedete, vabbè, funziona bene. È un'app molto carina comunque. Per migliorare ulteriormente il risultato della mia disintossicazione da smartphone, ho deciso che voglio comprare una sveglia tradizionale. Perché questo robo mi fa perdere veramente un botto di tempo la mattina. e circa mezz'ora del mio utilizzo totale veniva spesa durante la mattinata. E usare il telefono alla mattina mi sono reso conto che mi influenza particolarmente le giornate. Spesso in modo positivo, ma tante altre volte anche in modo negativo. Quindi mi sono prefissato di comprare una sveglia tradizionale e non utilizzare più il telefono finché non esco di casa. Così, secondo me, ragazzi, riesco a trovare veramente la quadra. Perché questi sono apparecchi veramente molto interessanti, molto potenti, ma possono anche farci del male. E basta con la scusa di dire, eh ma io col telefono ci lavoro, perché non è prettamente vero. No, tranquilli, non mi sono dimenticato di farvi vedere il tempo di utilizzo, che è passato da 6 ore e 10 di utilizzo a circa 3 ore e 17. Ma calcolate che ho registrato tutto questo video, poi ho body bank e tiktok soltanto perché oggi ho avuto un problema con la carta e quindi sono stato a parlare con la consierge di body bank altrimenti questo dato non ci sarebbe stato. TikTok, idem, ho pubblicato un tiktok e quindi sono stato con l'applicazione aperta per caricarlo altrimenti il dato sarebbe stato sicuramente più basso quindi direi che possiamo stare sulle, dai, 3 ore sarebbe il dato giusto di utilizzo. Vi ricordo che prima erano 6 ore e 10. è veramente tanto, tanto tempo e mi raccomando state attenti a come utilizzate i vostri smartphone.